Musica Mister queste sono partite che possono cambiare il corso di una stagione anche da un punto di vista emotivo perché nel secondo tempo abbiamo visto tanta rabbia da parte dei suoi ragazzi Sì, finalmente voglio anche dire perché oggi al di là della situazione che si era creata dove eravamo andati sotto seppur avendo la partita di fatto in controllo perché devo dire che anche quando eravamo sotto 2-0 non ho mai avuto neanche per un secondo la sensazione di non poterla riprendere è evidente che invece di calare oggi siamo cresciuti e quindi sono contento di questo perché abbiamo lavorato molto sull'aspetto dello spirito agonistico perché credo che in questo campionato sia un aspetto determinante unito alle qualità che abbiamo perché credo che noi abbiamo delle qualità sia innegabile però se manca l'altro aspetto questa squadra soffre invece oggi abbiamo messo noi alle corde gli altri l'abbiamo fatto per gran parte della partita creando occasioni, situazioni e in più facendo tre gol quindi credo che oggi ci sia poco da dire su questa vittoria e io devo fare i complimenti ai miei ragazzi Linkovic, lei ne aveva parlato ieri, si aspettava una grandissima prestazione e grandissima prestazione è stata al netto di quella munizione che magari si poteva risparmiare che purtroppo gli farà saltare Salerno come avevo detto in pre-gara con lui avevo fatto un patto e quella settimana che è stata a casa gli è servita sicuramente per riflettere e per ritornare con una certa forma e in questi 15 giorni l'avevo visto bene quindi io oggi ho deciso di metterlo in campo al di là dei discorsi perché mi interessava che facesse una prestazione che potesse ricongiungerlo con l'ambiente Ascoli quindi credo che oggi sia successo questo oggi ha dato tanto ha fatto un gol, ha fatto due assist ha corso quindi credo che un giocatore come Linkovic in Serie B non si regala sarei un pazzo a regalare Linkovic è chiaro che lui si deve mettere nelle condizioni di farsi voler bene dalla squadra dal proprio allenatore soprattutto dalla gente e oggi credo che abbia dimostrato di che pasta è fatto quindi sono contento per lui Bravo anche mister Zanetti perché il cambio Scamacard-Demagni è stato decisivo Ma è sempre così non mi voglio prendere meriti oggi come non mi sono preso dei meriti altre volte credo che allenatore è un mestiere un po' bastardo c'è poco da fare però finché la squadra risponde così io mi prendo volentieri tutte le critiche tutte le responsabilità non ho spirito di rivalsa nei confronti di nessuno anzi io devo ringraziare la gente di Ascoli tutto lo stadio perché anche sul 2-0 ci ha aiutato prima della partita caricato ai nostri ragazzi e non è una cosa scontata questo significa che noi abbiamo un pubblico maturo che giustamente è un pubblico esigente che critica come tutte le parti però i miei ragazzi sono protetti sono protetti e io voglio proteggerli e oggi mettono in campo una grande prestazione una prestazione che ci porta a essere a due punti da Serie A quindi l'Ascoli oggi ancora si lotta degli obiettivi più che importanti quindi credo che questo ci deve essere solamente che unire tutti quanti insieme per superare gli ostacoli unire le forze credo che noi siamo una squadra forte in più di una circostanza l'abbiamo vista mettersi le mani nei capelli per le decisioni arbitrali le è piaciuta la direzione di Massimi? ma diciamo che spesso dal campo si hanno delle sensazioni diverse rispetto a quello che magari poi si vede da fuori sembrava che ci fosse un rigore per noi non so se era fuori gioco su Ardemani insomma piccole situazioni anche qualche piccolo fallo non fischiato però insomma tutto sommato non voglio attaccarmi all'arbitro oggi eravamo più forti anche di questo quindi bene così l'arbitraggio fa parte del gioco assolutamente non mi attacco il Cosenester credo che oggi sia venuto qui a fare la sua partita ha fatto la partita che noi ci aspettavamo è una squadra ostica che ci voleva colpire in contropiede noi anche se avevamo il controllo della palla nei due gol ci siamo stati abbastanza fragili siamo andati sotto senza nemmeno rendarcene conto però dopo credo che alla lunga sia venuto fuori anche tutta la nostra qualità e quindi insomma credo che ci stia questa vittoria da parte nostra e questo sconfitto a loro